Oggi siamo in una scuola elementare e media a parlare con i bambini di legalità. Quanto è importante seminare in ragazzi così giovani e quanto è importante anche il linguaggio che si usa per fargli comprendere cosa significhi in effetti legalità? Ma bisogna far capire ai ragazzi anche in tenera età che la legalità e la giustizia sono il pilastro dello Stato che se non funziona la giustizia e la legalità lo Stato si disintegra. Diceva Adam Smith, dicevano Aristotele che uno Stato può esistere senza benessere ma non può esistere senza legalità. Che significa? Significa rispetto delle regole. Quindi le regole sono quelle che viggono nella scuola, che viggono nello Stato, la Costituzione è la prima regola fondamentale che devono imparare i ragazzi e lentamente secondo me possono imparare perché la Costituzione è scritta con un linguaggio semplice e bisogna far capire che qualunque altra strada fuori dalla legalità è una strada sbagliata perché porta verso la rovina, la distruzione, la morte, il carcere, la disperazione. Quindi è l'unica strada che si può percorrere. Io quando sono stato ragazzo ho avuto delle tentazioni forti di uscire dalla legalità ed ero anche uscito dalla legalità perché parliamo del 1946, c'era un'Italia in preda al disordine. Poi mi sono recuperato in un'età molto difficile che è quella di 10, 11, 12, 13 anni che è la più difficile che si possa attraversare, diciamo. Quindi l'età in cui i ragazzi sono sfiduciati, sono disorientati, sono degli sbandati, spesso hanno alle spalle delle famiglie che non sono molto compatte. Quindi diciamo io incontro spesso i ragazzi di questa età e capisco il loro dramma, i loro problemi perché io ho vissuto gli stessi problemi, tant'è che a prima media fu rimandato a quattro materie e poi riuscì a recuperare a ottobre. Però questo accade sempre a tutti i ragazzi, cioè l'età che va da 10, 13, 14 anni è un'età molto difficile. Bisogna far capire ai ragazzi che loro saranno i protagonisti del domani quindi ci sono delle cose che non vanno, non si può dire ai ragazzi che tutto va bene anzi molte cose non vanno bene, a partire dall'eguaglianza dei diritti perché ci sono delle persone che guadagnano molto e delle altre che non guadagnano niente. Quindi bisogna dire che bisogna battersi per ottenere che siano rispettati i loro diritti perché questi diritti non vengono riconosciuti autonomamente dallo Stato ma bisogna battersi democraticamente senza mai uscire dall'albio della legalità ed io rispetto la scuola e amo gli studenti, amo soprattutto i docenti che fanno dei grandi sacrifici per aiutare i bambini a crescere. È una cosa voluta da tempo perché noi già dall'anno scorso abbiamo avviato con la scuola media e anche con le classi più grandi della scuola elementare un progetto legato alla legalità, al concetto di legalità in senso lato cercando di far capire ai ragazzi quanto sia importante nel loro percorso scolastico capire appunto quelli che sono i legami con il rispetto della regola, rispetto dell'altro, l'accoglienza e l'inclusività del diverso tutto quello che comunque in qualche maniera viene tutelato appunto dalla legalità e dal concetto di uguaglianza e stiamo portando avanti questo discorso attraverso tutta una serie di progetti l'elemento diciamo importante e clu del nostro percorso è la presenza di oggi appunto del giudice imposimato che con la sua grande esperienza sia nel campo della legalità ma anche in campo politico e di esperienza personale potrà dare ai nostri ragazzi tutte quelle indicazioni quei concetti legati alla legalità che potranno essere per loro tesoro e per chi poi si avvicina anche all'esame di terza media un elemento in più magari su cui fare discussione in sede di esame e poi farne tesoro per il loro futuro di studenti e di cittadini italiani grazie a tutti